Ha risposto al tweet sul lasciare Milano Ma fa parte della strategia Ecco, perfetto, intanto commentiamo anche Ha segnato Livaia Sì, è l'Inter che entra Ticcoli nel cerco di non dire niente, ho avuto un mancamento No, va bene, va bene Terzo gol in 1-3 per Livaia, sei tu il vice milito Adesso arrivano già, ti preannuncio le mail Se volevano mandarla via, mandarlo via Ti sto facendo il secondo tempo Hai visto la difesa? Il secondo tempo, Livaia sbaglia davanti al portiere Livaia C'era uno dei centrali Non è che impazzisco per Livaia C'era uno dei due centrali del Bacu Che ha deciso di saggiare il terreno Sai chi mi ricorda? L'ultimo lusio Eh vabbè, comunque Lasciamo perdere Quindi non è tornato dall'Argentina La situazione contrattuale era molto differente Per quanto riguarda Mario In questo momento lui ha Questo è bellissimo Sì, salute A fare già Nel C In questo momento Mario non ha questa situazione È vero che gioca poco Ma perché è una situazione È una situazione di fasi con mancini Facciamo parlare Simone No vabbè È raffreddato Scusami Simone Ma sei raffreddato Lo capisco Vedi, vedi Sei troppo leggerino È una camicia leggera C'è un gol C'è un gol Il giocondo Il giocondo Con tutti i soldi che guadagno Questo Più che il giocondo Mi piace di più Più che di Leonardo da Vinci Sembra dell'altro Leonardo Quello sbagliato che c'è a Parigi Questo è il fotovontaggio che impazza in rete Nefci Nefci Scusate perché mi ha avuto anche me una Scusate il quarto gol di Livaia Tu l'hai massacrato Intanto quattro gol Meglio, meglio vuol dire che porta Scusate, Nefci Com'è? Lo fai? Facciamolo insieme No, vai tu Vai 3, 2, 1 Nefci Salute Ecco, perfetto Cesare, quanto costa Mario Vallo? Il processo che riguarda Calciopoli? Nefci Come dici? Nefci Pareggio all'ottanto ovesimo Nefci Cioè come dici? Calciopoli prendiamo gol Nefci E adesso sì C'è un fazzoletto? Salute Ha segnalato Canale 5 tra l'altro C'è un fazzoletto Nefci No, Canale Canale No, ma non ci credo Cioè Don Corno ne ha fatto Efci Abbiamo appena preso la traversa Basta Ce l'hai un fazzoletto? Efci No, dai, guarda un po' Simone, una donna è una sua persona Si, ce l'ha, ce l'ha Basta me l'allora, sto fazzoletto No, è perreiro No, è perreiro È il baro perreiro Vedi, con questo raffreddo Efci Grazie, grazie, grazie Simone, molto gentile Ecco Va bene Almeno facciamo io Grazie Vedi che tu non devi scommettere Grazie A parte che Lasciamo per Nefci Comunque, salute Crescino Non mi faccia Non mi faccia Non mi faccia Non mi faccia Cioè, questo è proprio Sfatti, lì lì Con attraverso il pagato Dentro Tra l'altro hanno inquadrato Dei tifosi del Nefci Nefci No, ma Longoni Nefci Ha postato foto Di tifosi Dello tenista Mi sa che non ce la faccio Stare qua per l'ultima ora Sei allergico Sei allergico Al Nefci Va bene Calciopoli però Stavamo parlando di Calciopoli Il servizio di Matteo Carabin